Isola dei famosi, Stefano Bettarini e Caspar Capparoni smascherano le strategie di alcuni naufraghi Stefano Bettarini e Caspar Capparoni hanno un confronto ed emergono particolari interessanti su Marco Maddaloni e Marina La Rosa. Isola dei famosi, Stefano Bettarini deluso dalla nomination. Nellultima puntata dellIsola dei famosi i naufraghi dovevano dar vita ad una catena di salvataggio che avrebbe lasciato quattro naufraghi. Tra loro ci sarebbe stato un eliminato. A lasciare la palapa alla fine di questo meccanismo è stato Stefano Bettarini che è rimasto molto deluso dal comportamento dei suoi compagni. Isola dei famosi, Caspar Capparoni accusato di aver pilotato la prova leader. . Durante la puntata Alessia Marcuzzi ha informato Caspar Capparoni sullisola che non c'è che i naufraghi hanno mosso delle accuse pesanti. . Secondo loro, Caspar e Marco si sono messi d'accordo per dare la fascia di leader a Marco, quindi la prova di forza in cui si sono scontrati per essere il leader è stata pilotata. . Caspar ha preferito non replicare, ma quando è stato raggiunto da Stefano Bettarini sono emersi nuovi dettagli. . Isola dei famosi, il confronto tra Stefano Bettarini e Caspar Capparoni. Stefano Bettarini, eliminato dal televoto, ha deciso di rimanere in compagnia di Caspar Capparoni per tutta la settimana. . Tra i due c'è stato un dialogo molto interessante che ha svelato alcune dinamiche di gioco tra i naufraghi. . Innanzitutto, Stefano Bettarini ha accusato Marina Larosa di aver giocato sporco. . Non ha idea di cosa ha fatto Marina. . Nella catena di salvataggio ha salvato Luca e poi dietro ha detto che non ha salvato Joe, come avrebbe voluto, perché altrimenti lei salvava me. . Mi ha leccato il CO tutti i giorni per mangiare e poi mi fa questo. . Caspar è rimasto molto male per il comportamento dell'ex Stefina, non solo per la nomination di Stefano, ma anche per un altro motivo. . Marina ha detto alla produzione che l'attore le avrebbe confessato di aver fatto un accordo con Marco per fargli vincere la prova leader. . Caspar ha commentato. . Ho sentito cosa hanno detto, hanno detto tutti delle grandi stupidaggini. . Io con Marina non ho mai parlato, l'unica persona con cui ho parlato della prova sei stato tu. . Alla fine entrambi si sono ritrovati a parlare anche di Marco Maddaloni. . . Quello che è emerso è la descrizione di un giocatore e uno stratega che farebbe di tutto per vincere il reality. . Betarine ha raccontato. . Marco sarà il prossimo. . La prossima volta lo nomineranno tutti. . Sono venute fuori un sacco di cose in puntata. . Lui praticamente va da tutti per convincerli di votare quello che lui vuole fare fuori, ma lui non lo vota così poi si giustifica e si salva agli occhi di tutti. . Che cosa succederà nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi?. . . .